ciao a tutti ragazzi siamo su questo nuovo video di Leantube e andremo a fare la missione della settimana quattordici ma stai esaminando no c'è infiniti danni alle avvertieri a caverna gelata o al santuario arigatoooooo kofu venissi a combattere e che non lo sapesse sono due maledetti ma secondo te contano raga vabbè almeno abbiamo fatto la visione e ci vediamo al prossimo video dei francesi ciao